Radio Ossola torna per potentemente per due giorni, come si svolgerà questa manifestazione? Dunque approfittiamo della Borsa Scambio che si trarà qui all'Ipercoppa di Crevola d'Ossola e per due giorni, sabato e domenica, faremo rivivere Radio Ossola, la prima radio ossolana nata nella primavera del 1976. Ci saranno musica degli anni 70, massimo 1980, ci saranno interviste, contatti col pubblico, racconteremo aneddoti e soprattutto ci sarà anche uno scambio con giovani che trasmettono nella radio di oggi, il progetto ad esempio Copplay, per capire un attimino, per confrontarci come si trasmetteva una volta i tempi epici delle prime radio libere italiane e come si trasmette adesso.